I Millennials è una categoria di persone che si approccia ultimamente alla medicina estetica con più frequenza rispetto ad una volta perché sono delle persone abituate a guardarsi spesso essendo molto avvezzi all'utilizzo dei selfie e con questa metodica riescono proprio a vedere dei particolari del viso che prima non si riusciva a cogliere. Cosa succede? Succede che a questo punto guardandosi in continuazione cercano di correggere questi piccoli difetti. Come possiamo fare? Senza arrivare alla chirurgia possiamo utilizzare l'acido ialuronico. Io utilizzo l'acido ialuronico spesso per correggere il profilo del naso e questa metodica viene detta rinofiller oppure per correggere la bocca e il mento che sono altre parti del viso che spesso richiedono correzione da parte di queste persone. Questa metodica è una metodica molto veloce, non richiede downtime, cioè la persona può tornare alla propria attività immediatamente, è poco visibile e permette di avere un benessere psicologico notevole nonostante la metodica sia molto semplice. Un'altra richiesta da parte dei millennials è di preservare comunque questo aspetto giovanile e di prevenire l'invecchiamento della cute grazie a dei biorivitalizzanti, bioristrutturanti che vengono fatti proprio a livello del volto e del collo inizialmente per mantenere l'idratazione della cute. Ultimamente sul mercato abbiamo un acido ialuronico crosslinkato abbinato a un glicerolo che permette di avere una pelle molto idratata e tonica e viene proprio definito skin saver perché preserva le caratteristiche della cute giovanile con mantenimento dell'elasticità del turgore del tono nel tempo con poche sedute, di solito 3 o a cadenza mensile. L'effetto di questa correzione dura anche fino a 36 mesi e nel tempo si ha proprio un miglioramento delle caratteristiche della cute.